secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie non spendere questi 50 euro e scendere con il bob o con gli sci o con lo snowboard secondo me non è un'ottima cosa, secondo me è poco sicuro pensate se ci fosse stata la tormenta di neve quando era ora di scendere come avremmo fatto? no vabbè avremmo dovuto aspettare, cioè non potevamo eh ma la dovevano chiudere, e che cosa facevano? davano il gatto gratis a tutti? cosa dovevamo fare? eh vabbè dovevamo pagarlo eh ragazzi, io penso allora che io non sono d'accordo che cosa? sta suggerendo palesemente lei, guarda che si tira fuori un po' dallo schermo gliele smiagola no Gibbe, però Gibbe contagioso si e Batman no no, guarda Gibbe che mincao 4 e 1 è la forza di non mollare male tutto questo caso è pieno di covid quando mi parlo di covid siamo tutti contagiati qui bro animale notte vola caverne dorme contrario provala Gibbe provala Gibbe Gibbe Batman animale caverne eh mi sa che Batman animale caverne pensa l'animale Gibbe vabbè tu non aiutarlo zio vabbè il drago allora però posso dire una cosa secondo me è un'evoluzione cioè quindi no 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 non è sbagliato è tuo Batman scusa G alza la paletta singolare vigile eh no è vero è la giusta vigile è la ragione è la ragione dai vi rifarete con la prossima inizio io? si inizia te inizia te vai Simo chi alza la paletta plurale poliziotti no no godo tantissimo ma ragazzi ma quante problemi c'erano che succedesse questa cosa molto simpatica ma quanto probabilmente c'erano ricopriamo ricopriamo Simo ricopriamo ragazzi questo timing vabbè non ho parole anche se il tempo c'è giusto onestamente ma com'è possibile cosa? sono i sub da giftare di prima non è ah non l'astio che hai di solito ah ok ok no ma scusa ah ma è Buratti il tuo cognome è Buratti? si con la S davanti eh mancava un no alla fine ecco bella bella questa bella è questa straight vuoi mettere una sfida a chi vince la no dai no 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 sì ehm sì dai che ti bebe attacchi that's crazy come fai? that's crazy bro come è che sto tipo a giochi io a adolescente ehm cantante sì vabbè italiano singolare passo aspetta però la moneta aspetta Graham Bull è giustissimo è giusto lui è singolo è giovani cantanti andrà a staremo non è singolo non è il giro mi ha buttato fuori ma muschio lo schermo se gliela fai condividilo te a sto punto se mi daresti una grande mano il sito è down allora intanto cambia le parole assolutamente è una roba infatti un po' offensiva c'è che casa il sito è proprio down ma come il sito forse ho sbagliato perché non ho forse la cap sense vabbè ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho easy ci sono ci sono ok ma non ci ha ascoltata la live ascoltaci direttamente dalla chiamata sì ma tu non puoi ero un po' ci sono c'è il cellulare di Gilbert che ha qualche problema ragazzi Gilbert prova uscire rientrare prova uscire rientrare no ragazzi mi fai incazzare e lo rompe ma non è vero vabbè sì per quel cazzo di capelli ghiacciati vabbè qua stavo male però ma cosa fai io quando stavo bene io non stavo bene io non stavo per niente bene qual è il problema il problema è che vabbè ciao ragazzi bene e lei ragazzi non rompeteci i coglioni stiamo insieme basta domande non fine è solo per dirlo perché comunque almeno mi dai dai cospe fuori ragazzi ce l'hai tu come ce l'ho io sinceramente io adesso litighiamo ciao adesso litighiamo e non ce l'ho ciao comunque stava morendola fuori c'era lì sì ma poi non puoi presentare senza lei qua perché non puoi neanche replicare se tu dici che hai litigato perché hai detto chi alza la paletta singolare vigile eh no è vero è la giusta vigile hai ragione hai ragione dai vi riparate con la prossima inizio io sì inizia te inizia te vai simo chi alza la paletta plurale poliziotti godo tantissimo bufoni che stupidi che sciacchini ma ragazzi ma quanti problemi c'erano che succedesse questa cosa molto simpatica ma quanto è probabilmente ricopriamo ricopriamo ragazzi questo il timing vabbè ti do questi soldi comprati una pizza beh dai meglio che meglio che darli a greenball piuttosto che darli allo spacciatore oddio io forse li avrei spesi in droga però sono un pochino più tranquillo perché poi vabbè che a parte che sono uno non so come siete voi ma io sono tipo uno che con la mia ragazza anche quando è con gli amici neanche ci baciamo perché mi vergogno ma io ho i miei problemi però in generale anche in pubblico magari perché poi la gente mi schia ecco c'è il nome vabbè comunque si si chiama così mi sono fatto un pesce lungo scusa ci sta ci sta che pesce era un pesce lungo e che pesce era pesce l'ora non lo so era lungo era una trota era lungo come cosa era lungo come cosa Gilbert è come la festa sono sempre lì perfetto va bene la foto della fa la vedere no perché ah si si è bella questa questa qua è la foto di quelli 50 euro in meno sono andati qua ma a parte che non è che magari c'è un po' no vabbè è una foto cioè non è una foto è una merda no aspetta 150 euro per cenare lì noi abbiamo visto sta roba e abbiamo detto sentite 50 euro in più li pago immaginatevi con la bufera di neve la bufera di neve a mangiare le focaccine noi abbiamo deciso io stasera tu verrai che sarà piena così io lo butto sul mio profilo adesso fai una storia adesso scrive proprio Gilbert Nana Undici e papà blu Manuccio c'è c'è un live da pazire stasera tu verrai che sarà piena e talga mi così lo riposo sul mio profilo ok questa qua era la situazione questa qua è stata è stata la situazione ma si è bloccata la chat sono ancora in live ok perfetto bene è riuscita accompagnarla si adesso lui va a casa così almeno si può connettere bene ragazzi questa è non rompeteci più coglioni siamo fidanzati spingere col treno spingere col treno è certo questa la stava preparando da una donna cinque minuti con la vanilla la vai scusami spingere col treno spingere col treno di già avete visto spingere spingere ma scusa non è poi data la chiave si ma devo fare tutti i cancelli scavalcandoli è una pasticciuta al box saluto a tutti i ladri che mi seguono sei chiuso quello grande sei chiuso come faccio capito dobbiamo aspettare che ti dico al fumo no sono va bene no si no e no perché poi non può entrare capito dobbiamo aspettare che ti dico al fumo no sono va bene no si no e no perché poi non può entrare non può entrare se lasci giù quella piccolina è la stessa del cancello si non mostrare che le duplicano ah si proprio fanno il locale certo certo mister cancer è esperto no questa è quella solo di cosa io ho bisogno delle cavi del cancelletto ma jody cosa è successo jody giga child un culo io vi giuro cioè io quando ho detto ah il coso della apple lui ho detto non è vero non è vero ma come è possibile cioè infatti ne ho mai testo ho detto minchia vedi che a volte c'è c'è fare delle robe per dire dai oh le provo tutte minchia fatti jody voleva darmi il suo conto bancario si no ma è stato no ragazzi anche perché l'alternativa era comunque anche il 1 gennaio non lavora nessuno ovviamente e lui vuole andare alla volkswagen io no vuole andare alla volkswagen ma comunque anche se fosse andato il giorno dopo e già il giorno dopo